Nella puntata di ieri vi ho parlato di Ucraina perché ieri mattina abbiamo avuto Guido Crosetto in aula, il ministro della difesa, abbiamo discusso e votato sulla prosecuzione degli aiuti all'Ucraina, compresi gli aiuti militari, ma la giornata non si è conclusa così perché poi nel pomeriggio abbiamo parlato di giustizia, avevamo un importante provvedimento da votare, da discutere e così è andata, naturalmente la maggioranza ha portato a casa il provvedimento, ma a un occhio attento secondo me sono successe delle cose interessanti che hanno dimostrato che questa maggioranza insomma non se la passa benissimo. Proprio di questo voglio parlarvi quest'oggi, il 14 dicembre, questa è la versione di Ivan, cominciamo. Io sono Ivan Scalfarotto e questa è la versione di Ivan, una storia ogni giorno, da lunedì al venerdì, rigorosamente dal mio punto di vista. Giornata importante ieri in Senato, appunto dopo le votazioni sull'Ucraina, abbiamo votato e approvato il decreto legge Rave, quindi lo ricordate benissimo, ne sono sicuro, e quindi il primo provvedimento importante che la maggioranza ha portato a casa, ma io partirei da un dato incontrovertibile che è quello dei numeri della votazione finale. Il decreto è stato approvato con 92 voti favorevoli che sono francamente pochini. In Senato siamo 200, come sapete, più i sei senatori a vita, quindi la maggioranza tecnicamente è fissata a 104, da 92 a 104 mancano un bel po' di voti e direi soprattutto, c'è un dato politico importante, che quello che uno dei voti mancanti sia stato quello di Licia Ronzulli, che è la presidente del gruppo di Forza Italia. Quindi il fatto che il presidente di un gruppo di maggioranza non voti un provvedimento, sebbene tra l'altro lo abbia fatto per ragioni condivisibili, Ronzulli si è sempre impegnata a favore dei vaccini e quindi ha detto di non sentirsi a suo agio nel votare una norma che prevedeva la reintegrazione dei medici Novax. Quindi al di là della bontà delle ragioni o della condivisibilità di queste ragioni, resta sempre una cosa, diciamo così, che non può passare inosservata. Tant'è che lo stesso presidente Larussa, che presiede con uno stile molto informale, molto inconsueto, quando Ronzulli ha annunciato che non avrebbe votato il decreto, si è molto agitato dicendole ma insomma non si è mai vista una cosa del genere. Ovviamente io che intervenivo in dichiarazione di voto finale l'ho sottolineato abbondantemente, perché ripeto, politicamente è un dato di fatto. C'è da dire che il decreto dal punto di vista tecnico, giuridico, faceva acqua da tutte le parti, a partire dalla sua, diciamo, dubbia, molto dubbia adesione ai principi costituzionali di necessità e d'urgenza. Diciamoci la verità, l'urgenza del paese non è propriamente quella di normare i rave party, ne vedo delle altre molto più, diciamo così, sostanziali. Ma al di là di questo c'è da dire che c'era una contraddizione anche politica molto rilevante, perché noi in questa fase, diciamo così, siamo stati molto colpiti tutti, gli osservatori, giornalisti, credo l'opinione pubblica, dalle parole di Carlo Nordio. Io ho dedicato a questa vicenda un episodio di questo podcast. Nordio ha pronunciato parole di garantismo a favore della presunzione di innocenza, dicendo che in Italia si usano troppo e male le intercettazioni per fare le indagini, ha detto che la reclusione non può essere l'unica sanzione penale, l'unica via d'uscita quando si tratta di fare una norma per regolamentare un certo fenomeno. E questo decreto però va in direzione completamente opposta, perché da un lato, per esempio, sull'ergastolo stativo, sancisce norme che sono più sfavorevoli al reo, facendo tutto il contrario di quello che la Corte Costituzionale ci ha chiesto di fare. Sulla riforma cartabbia, che è stata posticipata nella sua entrata in vigore, fa cose un po', diciamo così, strane, perché si dice la riforma cartabbia va posticipata nella sua entrata in vigore per dare il tempo agli uffici giudiziari di organizzarsi, ma non si capisce come solo due mesi di ritardo possano consentire agli uffici giudiziari di organizzarsi. Poi, peraltro, anche lì la riforma cartabbia, che ricordo è un obiettivo del PNRR, e quindi non vorrei mai che il governo volesse ancora posticiparla, dicendo che gli uffici giudiziari non si sono organizzati in due mesi. La riforma cartabbia però prevedeva anche delle norme più garantiste, anche in questo caso norme più favorevoli al reo, che anch'esse sono state posticipate nell'entrata in vigore, quindi addio garantismo. E poi del re party appunto abbiamo parlato, già un nuovo reato fatto per decreto legge, fatto male, tant'è che, cioè la dimostrazione di questo è che il governo ha emendato il testo che aveva inizialmente scritto, quindi ha riconosciuto che quel testo era scritto male, e comunque non bisognerebbe mai introdurre un nuovo reato per decreto legge, perché i decreti legge entrano in vigore subito, e quindi se fai degli errori ti trovi delle norme che sono sbagliate, come in questo caso, che sono già in vigore. Quindi il governo ieri è vero che ha portato a casa formalmente una vittoria, però da un lato con 92 voti ha dimostrato di aver fatto per esempio l'errore di aver messo tutti questi senatori al governo, che ovviamente fanno, hanno più fatica, fanno più fatica a venire in aula a votare, e con 92 voti, diciamoci la verità, non si va molto avanti. Vero è che le opposizioni erano, eravamo in 75, quindi la cosa non si è notata, ma se le opposizioni si organizzassero meglio, la prossima volta il governo va sotto, quindi c'è un campanello d'allarme dal punto di vista numerico. C'è poi un altro campanello d'allarme dal punto di vista politico, perché ieri è stato evidente a tutti che le cose dette dal governo per bocca del ministro della giustizia sono completamente diverse dalle cose che il governo fa in materia di giustizia, e questa vicenda presto o tardi diventerà un nodo che viene al pettine, perché è chiaro che questa maggioranza non è una maggioranza garantista, è una maggioranza che tendenzialmente pensa di mettere la gente in galera e buttare via la chiave, per cui se il ministro della giustizia in modo così schietto, tra l'altro in modo così aperto, proferisce formalmente, solennemente parole di garantismo e il suo governo lo smentisce nei fatti, questa è una questione che certamente prima o poi esploderà. Io mi fermo qui, ovviamente vi do appuntamento a domani e vi auguro un'ottima giornata. La versione di Ivan è un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato all'omonimo libro edito dalla nave di Teseo.